Umbria Sport Magazine Cristian Buonaiuto è un'emozione perché è una prima dichiarazione ufficiale ai canali e alla stampa locale per te che sei arrivato qui a Perugia, questo ritiro e com'è stato vivere questo primo ritiro con una squadra di Serie B? Sicuramente un'emozione forte giocare e allenarmi comunque con una squadra di Serie B per la prima volta è un'emozione forte e ce la sto mettendo tutta per meritarmi questa categoria ed è la cosa che voglio dimostrare a tutti Possiamo dire che sei un uomo di Mister Bucchi che ti ha portato qui a Perugia, continuare a lavorare con il Mister è sicuramente piacevole, però che cosa è cambiato rispetto magari allo scorso anno? Chiaramente cambia anche l'obiettivo come squadra, come categoria Sì, sicuramente cambia la categoria cambia l'obiettivo ma il Mister comunque ormai so bene quello che vuole e quindi sarà ancora più dura perché la categoria è diversa però con il Mister è molto più semplice perché conoscendolo da da più tempo rispetto agli altri comunque già so come come ragione quello che vuole quindi sicuramente darò il massimo e ce la metterò tutta Quindi il tuo ingresso nella ripresa ha dato vivacità l'attacco credi che tu possa essere importante in questa stagione? La fiducia che mi ha dato il Mister è stata importante quindi penso di ritagliarmi un buono spazio se faccio tutto quello che mi chiede il Mister e se riesco a dare un contributo alla squadra Poi sull'episodio c'è stato un episodio in cui tu mi pare hai messo il pallone in mezzo e un tuo compagno è stato atterrato in aria e pensi che era rigore quello perché da dove mi trovavo io non era facilissimo vedere Sì diciamo che è stata una partita un po' maschia quindi si fischiava poco e si lasciava andare molto però sì penso che che rigore c'era però vabbè è importante che ce lo danno in campionata il sabato L'ultima cosa che effetto ti farà scendere in campo alcuni sabato contro comunque un avversario di richiamo sicuramente sarà emozionante scendere davanti a un grandissimo pubblico a una grandissima società che ha una storia alle spalle importantissima per me è motivo d'orgoglio è motivo di di metterci qualcosa in più rispetto agli altri grazie